Quasi 3.500 morti e 386.000 nuovi contagi solo nelle ultime 24 ore. Sono, ancora una volta, numeri a rialzo quelli forniti dalle autorità su nuovi contagi in India. Con un sistema sanitario ormai impotente, il virus continua a diffondersi e ad uccidere. La principale emergenza è ancora la mancanza di ossigeno e attrezzature mediche, anche se in queste ore sono arrivati aiuti da Stati Uniti, Russia, Giappone, Italia, Francia. Il governo continua a raccomandare l'uso dei dispositivi di protezione ovunque, anche in casa. Prendi precauzioni, indossa correttamente la mascherina. Gli agenti di polizia dello stato del Kerala hanno girato questo video in stile Bollywood per incoraggiare l'uso della mascherina e dell'igiene personale contro il virus. Dall'altra parte del mondo, Buone Notizie annuncia invece in TV il sindaco di New York, Bill de Blasio. La città sarà interamente riaperta dal 1 luglio. Niente più restrizioni quindi per bar, ristoranti, negozi e tutte le altre attività. De Blasio ha spiegato che il Covid sta crollando di fronte all'imponente campagna vaccinale che solo a New York ha già permesso di immunizzare 6 milioni e 300 mila persone. E mentre in Germania ieri è stata superata la soglia record di 1 milione e 100 mila persone vaccinate in un giorno solo, in Francia il presidente Macron ha annunciato che dal 19 maggio il coprifuoco sarà posticipato dalle 19 alle 21 e dal 9 giugno alle 23 per essere definitivamente abolito entro il 1 luglio.